E' giunta al suo settimo giorno la protesta nei pressi dei cancelli della Treofan Italy di Battipaglia. Il presidio permanente dei lavoratori ha riscosso la solidarietà anche delle organizzazioni sindacali, delle aziende e del comprensorio e durerà, come confermano i manifestanti, fino a quando non vi saranno risposte concrete in merito all'avvertenza. Noi siamo comunque ancora in attesa delle risposte che ovviamente Gindal ancora non ha dato. La resina non è stata mandata. Come hai detto tu, il ministro Di Maio è venuto in visita, si è reso conto della realtà che poco sposa con la teoria portata avanti da Gindal e che quindi è una realtà importante. I bilanci in verde, come abbiamo preferito nominare, le attività pronte a partire. Quindi il ministro, che è l'organo massimo in questa partita, ha preso l'impegno e speriamo che al più presto ci dia il tavolo e l'opportunità di spiegare le nostre ragioni. In questa battaglia avete avuto anche la solidarietà di altre organizzazioni sindacali, di aziende a voi vicine. Un segnale importante di unità. Sì, sì, come puoi vedere alle nostre spalle ci sono tutti gli striscioni che riassumono più o meno la vicinanza di tutte le aziende del comprensorio. Poco fa c'è stata un'azienda addirittura di Lauria, che è un bel po' di chilometri da qui, che aveva voluto manifestare il loro appoggio a questa situazione. Quindi sì, certo, più che positiva. Avete avuto modo di parlare anche con i colleghi di Terni, perché a Terni più o meno la situazione è simile, no? Sì, abbiamo parlato con i colleghi di Terni. La situazione è più o meno simile a Terni, però ci abbiamo parlato, insomma. Fra i lavoratori qual è lo stato d'animo? Lo stato d'animo è, come dicevo anche ieri, di cauto ottimismo, perché la visita del ministro è stata una visita importante. È arrivato qua, non eravamo in campagna elettorale, è arrivato come ministro del lavoro, ha detto, si è preso degli impegni forti. E quindi siamo fiduciosi, siamo fiduciosi, cautamente fiduciosi, però la fiducia c'è e noi non molleremo, soprattutto. La protesta continua anche nei prossimi giorni? La protesta continua fino a che non avremo delle risposte. Non ci basta neanche più ricevere la resina. Noi vogliamo delle risposte, vogliamo un piano industriale, vogliamo delle azioni concrete e quindi aspettiamo questo. Fino a che non avremo questo, noi rimaniamo qui 24 ore su 24.